maestre primo giorno zona rossa stiamo uscendo perché devo fare alcune cose nonostante c'è qualcuno comunque fuori nonostante tutto oltre i piccioni c'è qualcun altro qualcuno che non è un piccione comunque le strade qui la strada comunque è abbastanza deserta c'è nessuno è un po simile al video di ieri comunque poco da dire c'è proprio nessuno anche quei pochi che ci sono una mascherina pur essendo da soli sono scelti da rispettare comunque adesso vediamo chi c'è chi non c'è polizia municipale lo stesso devo andare a prendere il caffè vediamo se c'è polizia municipale in due fontanella qua piena piazza ferretto niente pazzoi maestro piazza ferretto il cartellone sembra ricitare aperto vediamo la galleria barcella pochissima gente una persona alla volta perciò veramente meglio chi è chi è chi è chi è chi è